benvenuti in kiwi mi chiamo luca luca il tuo personaggio come ti chiamano che loro non lo sanno come ti chiamano il maestro jiraiya maestro di naruto gli ho insegnato il rasengan e mi sono preso anche una bella botta quando ho fatto il sigillo fai io vede come si fa rasengan fai io vede black spiderman capitan findus e il nostro uomo e misa mi sa che sono loro vabbè raga vabbè questi qua ci stanno questi con i cappelli così ma vuoi mettere ok raga ma quante ve ne siete scolati raga allora seguite the motor assolutamente non è uno scherzo è un pilota seguitelo è un pilota di che di biciclette che sei nooo è da rally è un pilota da rally è un pilota di rally è un pilota di rally esatto mi piacciono le bolle mi piacciono le bolle ahahahahah pure la sera a piazza anfiteatro stanno i cosplayer i cosplayer aspetta che non si regge i cosplayer perchè hai la mazza illuminata la mazza illuminata perché la mazza standard non è bella senti ma quanti te ne sei scolati stasera zi eh almeno 3-4 mazza illuminata 3-4 mazza illuminata 3-4 mazza illuminata se sei fatto bra fa vedere la mazza come fa vedere la mazza c'ha una mazza lunga zi c'ha una mazza lunga questo ti senti? Maestro Vuten Martenroshi Martenroshi ci siamo c'è pure Tenzing giusto? però c'è sta a sorpresa perchè a sorpresa non si vede c'è pure Riff c'è pure Riff come te chiami? Tenzing Tenzing qua c'è pure? Balados brava raga raga qua fatti i buoni che sennò questo prende e ve succhia tutto perchè lui è Cell e Cell raga qua c'è sta pure Trance c'è sta Trance cioè abbiamo un po' di Trance ci abbiamo e lui e lei e lui Trance Vados Trance con? May con May dai fagli vedere la fucilata anzi fagli vedere la fucilata c'è sta Junior che ancora non è diventato arancione tra poco si incazza e poi diventa arancione la prossima volta lo faccio vedere qua invece c'è sta Yamcha Yamcha che sarà meno tipo la decima volta che muore e mi dà anche pure basta è finito di morire andiamo avanti andiamo avanti che qua c'è sta pure Black Goku Black Goku che questo? non fate incazzarsi sennò prende e vi ammazza a tutta la famiglia quindi non fate incazzare perchè c'è sta pure l'altro demone toga 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 poi qua c'è sta l'altro bulma quante bulma c'è stanno? due bulma c'abbiamo quante cazzo ne volete si? due bulma come te chiami tu? Liliana Liliana e questa la conoscete già c'è sta tante volte nel video bulma ecco brava bulma c'è sta invece Grezzaiamen Grezzaiamen non diciamo chi sei veramente state zitto non diciamo chi sei veramente sei Valerio Valerio bravo invece qua c'è sta l'altro trans c'è sta l'altro trans come te chiami? Francesco Francesco da dove vieni? da dove vieni? fammelo sapere provincia di Bari provincia di Bari e dillo dove? dillo da Bitonto nooo non potevo dire non ti preoccupa poi invece come vecchissimi qua c'è sta zi il dio della distruzione dategli roba buona da mangiare se no ci ammazza tutti il peggio di Thanos ci ammazza questo perchè siamo con? virus con virus siamo e io Martina l'amante di virus due virus zi aspetta io qui ci vedo triplo perchè c'è stanno tre virus raga qua stiamo a rischiare l'estinzione stiamo a rischiare quanto è corino ma voglio vedere sto dipinto quanto è bello ma fucci fucci raga qua invece c'è sta l'essere più potente di tutto Dramon Ball l'essere più potente di tutti è Arale raga Arale Arale la più potente di tutti quanti è inutile Arale con la baby Goku col baby Goku raga raga qua c'è sta invece C18 Eleonora diglielo che non si sente Eleonora 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 con l'altro l'altro trans qua ci stanno un bel po' di trans ci stanno c'è sta l'altro trans come te chiami? Simone qua invece c'è sta il super super genio fai a vedere i muscoloni fai a vedere invece qua c'è stanno uno due quante ce ne stanno? due 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 videl c'è sta si sono sdoppiate hanno fatto un sdoppiamento due videl con raga raga e c'è grande ospitata Goku Ultraistinto che ci ha aiutato anche a montare il il corso diciamo Ultraistinto fai a vedere di chi è qualcosa come te chiami? Moreno Moreno invece qua c'è stanno? uno, due quanti altri crezzaiami c'è stanno? due che cazzo ne volete crezzaiami? due cre... come vi chiamate? fai a vedere non si può dire che siamo crezzaiami bravi non si può dire come si chiamano qua invece c'è sta il protagonista di uno degli ultimi film che è? Goal come te chiami tu? Marco Marco tutto tutto fraci consanguinato sì perché ha appena ha appena ucciso Sel che abbiamo visto poco fa abbiamo visto ma che carino quanto sei bello con l'altro con dog Goku perché? con 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 Bulma giusto? e la Bulma che te chiami? Clizia Clizia ma quanto sei carino bello amore bello invece qua ci stanno gli altri c18 e l'altro trans tutti roma trans qua pare la salaria pare tutti trans come te chiami tu? Matteo Matteo e Ilaria raga bellissimi ragazzi bellissimi e io invece sono Kiwir mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale vi dice anche tutta quanta la squadra di Dragon Ball GOOOOOOOL BIT 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 CAAMEN AMEN AME AMEN 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 E sta pure il castoro c'è sta con il cartone ma come cazzo avete fatto a fare sta cosa gli acquaman sono gli acquaman questi fammi vedere via qua non sei acquaman Qua c'è sta pure la Xina, la principessa guerriera, giusto? No No, non è, c'è sta sto polpo Luì, è un momento un po' difficile, lei sta facendo un servizietto I pesci sono trombamici, non cibo Hanno le cornute, sono tutte cornute, perché raga? Perché tu sei proprio uguale all'attrice, sì Eh, lo so, succede E invece tu perché sei cornuta? Io sono un drago Un drago di 6.000 anni Sono un'adea drago di 20.000 anni Ancora più vecchia proprio Che vecchia? Ma che te ridi, ma che te ridi Vedi come sta asciupato Un'adea drago di 20.000 anni Un'adea drago di 20.000 anni Un'adea drago di 20.000 anni Grazie a tutti. Grazie a tutti.